Buongiorno, mi chiamo Giuse Mario Amorin, ho 69 anni, sono sposato con la più bella donna che ho conosciuto, Vanessa, 46 anni fa. Abito a Porto Alegre, ma sono nato in Caxias do Su, Rio Grande do Su. Sono discendente di italiani, mi piace molto imparare l'italiano, ho fatto 13 settimane di questa sfida di imparare l'italiano in 8 mesi. Ma prima di tutto c'è da dire che Silvano Formentin è un innamorato dell'Italia per la sua cultura, la sua culinaria, la sua storia, la sua gente. Riesce a trasmettere questa passione e con essa conquistare magistralmente i suoi studenti. Attraverso molto lavoro, dedizione, sforzo della squadra eccellente che ti aiuta e anche un metodo differenziato che fa che il tuo corso valga ogni centesimo investito per i tuoi studenti. Per tutto questo grazie, grazie mille per tutto quello che stai insegnando per me. È questo, arrivederci. Grazie a tutti.